Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo in compagnia di Giuseppe Nicoletti. Ciao Mario, ciao a tutti. Già è stato nostro ospite in una nostra puntata, ma noi lo richiamiamo volentieri perché ci aiuterà oggi a imparare una canzone al pianoforte che è la canzone di Ultimo intitolata Pianiti. Ci aiuterà oggi a imparare una canzone al pianoforte che è la canzone di Ultimo intitolata Pianiti. Bene ragazzi, questa canzone nella strofa si presenta con quattro accordi. Quindi c'è il Fa minore, il primo accordo, quindi se questo, dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, Do, Re, Mi, Fa, il Fa minore si compone di Fa, La bemolle, Do. Questo è il primo accordo. Poi ci sarà il Do diesis maggiore, quindi Do diesis, Mi diesis che sarebbe Fa, e Sol diesis compone il Do diesis. Poi ci sta il Sol diesis, andando indietro dal Do, Do, Si, La, Sol. Questo è Sol diesis, Do, Re diesis. Questo sarebbe Si diesis, però, diciamo, per facilitare, diciamo, Sol diesis, Do, Re diesis. Ed infine abbiamo il Re diesis, che si compone, Re diesis maggiore, Re diesis, Sol, e La diesis. Questi sono gli accordi. E la canzone fa così. Io ti aspetto dove il mare non si vede più Dove il giorno non arriva se non ci sei tu Dove anche i miei segreti poi si spogliono Dove gli ultimi hanno forza insieme e cantano Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar Dove da dentro ti vedrò arrivare In quel posto che alla luna ho preso un ammurone Dove si accettano le ansie e diventano cure Bene, e l'inizio, come abbiamo visto, fa sempre questi quattro accordi Poi, andando avanti, il brano ripete sempre gli stessi accordi E questa parte fa così E qua c'è una sospensione sul Do diesis maggiore Poi il brano va avanti, arriviamo al ritornello E gli accordi sono ancora gli stessi E fa così E anche qui c'è una sospensione sul Do diesis maggiore Poi il brano cambia in una parte, diciamo, più veloce e più rappata Qui gli accordi saranno ancora Do diesis maggiore Poi Re diesis maggiore C'è un accordo nuovo che è Do minore Quindi se questo è Do Mi bemolle Sol forma il Do minore Poi ci sarà il Fa e anche il Sol diesis Sono accordi che già abbiamo visto E la successione sarà questa Come la luce qui che filtra da questa finestra Come la vita che cambia ma resta la stessa Come un poeta che bacia il dolore Come la notte che ruba silenzi e ti regalo paure Io ti aspetto in una stanza che so spesa in alto Tra la luce delle stelle sto dannato in ferro Vivi tu per me la vita che io rifiuto Ti aspetto dove ti parlo restando per sempre E questa sarà la successione degli accordi E poi il brano si ripete più o meno sempre allo stesso modo Bene ragazzi come abbiamo visto Anche questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoporte Io ringrazio Giuseppe Contento di aver tirato ancora una volta una mano Non l'avevamo preparata Ma anche l'altra puntata Anche nell'altra puntata ci siamo dati una mano in tutti i sensi Io vi lascio come sempre in descrizione Il link su dove trovare il testo con gli accordi E in più due link su puntate Che sono presenti su questo canale Dedicati proprio agli accordi Per imparare gli accordi sul pianoporte Che dire Vi diamo appuntamento Alla prossima puntata Ciao Ciao